nuovo ospedale cantiere al via entro il 2024 la rambla prende forma affidato l'incarico per interrare la statale ciclabile del foglia dimenticata fondi a rischio sul sipario al 34esimo fan of film festival primo ko per la vl tonfo umiliante per la vispesaro una buona serata a tutti voi amiche e amici di rossini tv riparte una nuova settimana in compagnia dell'informazione serale di rossini news telegiornale di lunedì 17 ottobre che apriamo dedicando la copertina del notiziario all'importante firma avvenuta questa mattina nelle comune di pesaro una firma fra il comune stesso la regione l'asur e l'azienda ospedaliera marche nord che dà un preciso cronoprogramma a quello che sarà il nuovo ospedale di pesaro da costruire su quello di muraglia fondamentale passo avanti sul nuovo ospedale di pesaro da costruire a muraglia questa mattina nella sala rossa delle comune di pesaro è stata infatti posta la firma sull'accordo di programma per la realizzazione del nuovo nosocomio alla presenza del presidente della regione francesco acquaroli del sindaco di pesaro matteo ricci del direttore generale asur marche nadia storti e del direttore generale dell'ospedale marche nord maria capalbo l'accordo prevede il trasferimento delle strutture presenti nell'attuale polo ospedaliero di muraglia entro il 30 settembre 2024 per permettere l'avvio dei lavori entro il mese successivo la nuova struttura prevede 70 mila metri quadrati realizzati con i più alti livelli di sicurezza antisismica e risponderà a requisiti di risparmio energetico prevedendo la costruzione di un edificio con consumi quasi a zero previsti 400 posti letto per un investimento di circa 170 milioni di euro ora entro la fine del 2022 verrà indetto un concorso di progettazione per individuare la migliore proposta che risponda alle esigenze del territorio con particolare attenzione all'inserimento nel tessuto urbano seguirà il bando di gara per appalto integrato con cronoprogramma entro la fine del 2023 e avvio di bando gara per appalto integrato entro il 30 settembre 2024 se le date verranno rispettate si punta a iniziare i lavori entro la fine del 2024 per avere il nuovo ospedale entro la fine del 2027 per acquaroli quello di oggi è stato un passo importante per dare un cronoprogramma definito ad uno degli investimenti più grandi mai fatti dalla regione soddisfazione anche per ricci che ha però espresso preoccupazione per la carenza di personale e per la non condivisa cancellazione dell'azienda ospedaliera Marche Nord e ci sono altre grandi manovre nella viabilità pesarese a pochi giorni dalla chiusura di strada Carloni per quattro mesi per la realizzazione della nuova circonvallazione di muraglia l'attenzione si sposta su un altro progetto ovvero quello della cosiddetta rambla fra centro e mare così la chiamata il sindaco Matteo Ricci un progetto che è sempre meno visionario e sempre più concreto nemmeno il tempo di chiudere strada Carloni con i primi giorni di quattro mesi che serviranno ad accelerare la realizzazione della circonvallazione di muraglia da completare entro l'estate che il comune di pesaro sposta già l'attenzione su un altro progetto di radicale rivoluzione alla viabilità quello dell'interramento della statale su viale della vittoria all'altezza di viale della repubblica per costruire un'unica grande passeggiata da piazza del popolo alla palla di pomodoro per dirla con le parole di Matteo Ricci una rambla di ispirazione catalana che colleghi centro e mare progetto sempre meno visionario e sempre più concreto perché il comune ha affidato l'incarico per il disegno del progetto definitivo all'ingegner marco bianchi di sasso feltrio a lui il compito di studiare il progetto che porti le macchine ad inavissarsi di otto metri in una statale che diventerebbe sotterranea a partire da un pendio che comincerebbe a scendere a 30 metri dal semaforo l'obiettivo del comune è chiaro creare un collegamento pedonale ciclabile fra centro e mare senza interferenze delle autovetture l'ingegner bianchi si è dato circa tre mesi per consegnare un progetto che dovrebbe costare circa 5 milioni di euro l'ostacolo più grande ora diventa capire come conciliare lo scavo con la rete sotterranea di sottoservizi da quella a fognare l'acquedotto fino a luce gas insomma un lavoro complesso e a inizio 2023 si capirà se fattibile e con quali tempistiche progetti che tornano di moda e progetti che rischiano di finire in un pericoloso dimenticatoio è il caso della ciclovia delle foglie sulla quale il consigliere regionale andrea biancani ha presentato una interrogazione per capire che fino a fatto un progetto che di fatto era già pronto e che ora rischia di perdere finanziamenti statali. Come regione Marche avevamo stanziato nella precedente legislatura 5 milioni e mezzo di euro per proseguire l'attuale ciclabile che va da Pontevecchio lungo l'argine del Foglia che arriva fino oggi arriva fino al Gallopatoio cioè dopo la zona degli Porossini un progetto che aveva appunto l'obiettivo di con questi 5 milioni e mezzo di euro di proseguire lungo la vallata del Foglia andando interessare i comuni ad esempio poteva andava interessare la frazione di Borgo Santa Maria arrivava poi fino al comune di Vallefoglia per poi proseguire lungo la vallata in direzione di casa Bernardi di Rio Salso Borgo Massano quindi che interessava il comune di Pesolo il comune di Vallefoglia il comune di Tavuglia il comune di Monte Carlo in Foglia un progetto che è molto atteso dai cittadini perché consente di potersi muovere in sicurezza utilizzando la bicicletta ma sarebbe comunque un percorso ciclopedonale cioè che può essere anche percorso a piedi che consentiva di collegare i vari centri abitati con le zone artigianali ma anche con le zone come le rurali e noi avevamo lasciato avevamo individuato già a giugno del 2020 i progettisti che avevano fatto già il progetto preliminare e avevamo avviato nel luglio del 2020 e la gara per individuare i progetti progettisti che poi dovevano fare il progetto esecutivo progettisti che sono stati come dire scelti nel gennaio 2021 a tutt'oggi diciamo che a quasi due anni ancora non sappiamo se il progetto esecutivo è pronto ma soprattutto quando partiranno i lavori ricordo che il finanziamento aveva dei tempi cioè entro il dicembre del 2022 dovevano essere appaltati i lavori a tutt'oggi non mi risulta che sia partita la gara per appunto per avviare i lavori e quindi c'è il rischio di perdere le risorse e quindi presentato questa ulteriore interrogazione proprio per cercare di capire quando partiranno i lavori appunto per non perdere i soldi si tratta di un progetto molto strategico che i cittadini attendono ormai da anni e sarebbe veramente una beffa aver previsto le risorse aver fatto i progetti e non essere riusciti a partire con i lavori. A Pesaro sta per partire la nuova raccolta differenziata in centro storico attraverso i cassonetti intelligenti. Marche Multisevizzi ricorda ai residenti e agli esercenti delle vie interessate che siamo agli ultimi giorni utili per ritirare le carte Smeraldo ovvero le tessere che permettono di aprire i nuovi cassonetti della zona A della ZTL in cui dal lunedì 24 ottobre sarà attiva la sperimentazione del nuovo sistema di raccolta differenziata previsto dal comune e dalla stessa Marche Multiservizi. I titulari delle utenze dell'area compresa tra via 11 febbraio, via Gramsci, via San Francesco potranno ritirarle a Palazzo Gradari domani martedì 18 e mercoledì 19 ottobre dalle ore 9 alle ore 17 e 30. Ed ora spazio alle belle notizie come può essere quella di una encomiabile donazione da parte del comune di Pesaro verso l'alluvionato comune di Cantiano, donazioni che arrivano grazie ai cosiddetti TG delle belle notizie. Da quel 15 settembre 2022 gli aiuti manuali ed economici per le conseguenze create dall'alluvione al comune di Cantiano non sono mai mancati. Una città che deve ripartire, che un gran parte delle attività in situazioni difficoltose senza un futuro chiaro davanti a sé, è arrivato questa mattina un piccolo ma quanto mai prezioso gesto dalla parte più piccola della società. 400 studenti di 12 scuole elementari e medie del comune di Pesaro hanno donato alla città di Cantiano un assegno da 1200 euro. Il contributo è frutto dei 12 notiziari TG delle buone notizie, realizzati da settembre 2021 da bambini e ragazzi che compongono la redazione Gentile insieme ai loro docenti e dirigenti scolastici e che si sono messi alla prova con scrittura, montaggio video e public speaking. L'obiettivo, in linea con il progetto mezzo pieno, è quello di distribuire messaggi buoni da raccontare e da condividere per diffondere la cultura della positività. Sono molto contenta di devolvere questi 1200 euro al comune di Cantiano colpito dall'alluvione nelle ultime settimane. Un gesto concreto di solidarietà da parte delle scuole del nostro territorio, della nostra città, impegnate in un progetto divertente e anche proficuo. Buone notizie all'interno di Redazioni Gentili, 12 TG delle buone notizie caricati sui nostri canali social, visibili a tutta la cittadinanza, per raccontare anche il lato buono della nostra quotidianità. Questo è un segno tangibile, le redazioni hanno lavorato moltissimo, a cui vanno i miei ringraziamenti ai docenti, alle ragazze, ai ragazzi e ai dirigenti che hanno coordinato l'iniziativa, con la speranza che le buone notizie possano essere sempre più popolose e numerose all'interno della nostra quotidianità. Un ringraziamento mio personale e da nome dell'intera comunità di Cantiano al comune di Pesero per la vicinanza non solo morale, ma la vicinanza materiale che ci sta dimostrando in questa difficile fase che stiamo attraversando. Da quel 15 settembre Cantiano è stata letteralmente travolta da questo tragico evento che ne ha compromesso il patrimonio pubblico, ma soprattutto ha colpito il cuore del Paese. Oggi Cantiano ha oltre il 70% delle attività socio-economiche compromesse, è stato colpito il centro storico, un'intera area artigianale e quindi pensare al futuro e al ritorno alla normalità non può prescindere dal rilancio del tessuto socio-economico, quindi dell'occupazione e quindi della residenzialità. Quindi vicinanze concrete come quella dell'assessore Murgia che stamattina ci ha dimostrato sono segnali di incoraggiamento e di fiducia nel potersi rimettere in gioco, rimboccarsi le maniche e pensare di nuovo a un futuro per Cantiano e di Cantianesi. Quindi è inevitabile in questa fase per noi, prima di pensare ai ponti e alle strade, pensare all'economia reale e quindi alla prospettiva di un suo rilancio e quindi accorato e quotidiano è l'appello alle istituzioni affinché ciascuno faccia la propria parte. C'è bisogno di un aiuto concreto, immediato, che possa dare quella fiducia e quel senso di vicinanza da parte anche delle istituzioni per far sì che si possa da subito orientarsi verso meccanismi di riapertura a cui poi solo dopo aggiungere altri strumenti di supporto. Lutto ad Acqualagna per la scomparsa da appena 58 anni del ristoratore Gabriele Beligni, titolare del locale Il Tartufo. Beligni era molto conosciuta da Acqualagna e Iris è spento in seguito a un malore improvviso, presumibilmente un infarto avvenuto nella sua casa attorno alle 5 di mattina. Gabriele era stato artigiano del legno seguendo l'attività del padre ma poi si era reinventato con successo nell'attività di ristoratore. Ed è un lutto che per Acqualagna arriva pochi giorni dalla partenza della 57esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco che comincia domenica 23 ottobre. Proprio sabato l'organizzazione della fiera aveva reso noto il ritrovamento nelle colline di Acqualagna di una megatrifola da 650 grammi di buon auspicio per l'evento che inaugurerà domenica e che si terrà ad Acqualagna fino al 13 novembre. Una fiera che sarà seguita dalle telecamere di Rossini TV e che vi mostreremo nel nostro telegiornale e in uno speciale di approfondimento dedicato. A Fano sono invece partiti oggi i lavori destinati a riqualificare il Codma come centro servizi strategici per la città, la Valle del Metauro e l'intera regione. Presente al via del cantiere anche l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli per la valorizzazione di 20 ettari destinati a ospitare in maniera sempre più funzionale il mercato ortofrutticolo e anche molte attività legate al volontariato, all'associazionismo e alla protezione civile. E sempre a Fano sorgerà al parco urbano il primo circuito pump track della città. Si tratterà di una pista modulare composta da blocchi condossi, compressioni e paraboliche specifiche per le mountain bike. Una struttura adatta sia ai principianti che ai bikers più esperti sulla quale il comune ha investito 250 mila euro. L'area interessate di 11 mila metri quadrati mentre la pista sarà di 630 metri di cui 354 in asfalto. Ed è stata stipulata la convenzione tra l'Università di Urbino e Adrebus che consentirà agli studenti dell'Ateneo di acquistare degli abbonamenti tratta urbana ed extraurbana a tariffa scontata. Gli abbonamenti partono dai 190 euro del passo annuale urbano e dovranno essere acquistati entro il 31 dicembre e sono a numero limitato. E invece torniamo su Pesaro dove al Museo Officine Benelli si è svolta ieri la giornata nazionale del veicolo d'epoca, una iniziativa istituita da ASI per promuovere il patrimonio motoristico storico italiano. Negli spazi espositivi di Viale Mameli sono accorsi 400 visitatori provenienti da tutta Italia che oltre alla collezione permanenti di 150 motociclette Benelli e Moto B e alla straordinaria collezione ASI Morbidelli hanno anche potuto apprezzare la mostra di 50 motociclette degli anni 20 e degli anni 30 con pezzi unici di marchi come Mignot, Indian, Monego, Ion, Nera Car, Emblem, oltre alle italiane Guzzi, Bianchi, Frera e anche naturalmente le tante straordinarie Benelli. E parte domani martedì 18 ottobre la 34esima edizione del Fano Film Festival. Oltre 2000 le pellicole inviate a Fano da tutto il mondo con buona rappresentanza anche della nostra provincia. Sei le giornate di rassegna e ingresso gratuito che sono curate da Fiorangelo Pucci. Vecchia formula o quasi e nuova location. Per la sua 34esima edizione il Fano Film Festival torna agli origini. Sei giornate come prima del covid dal 18 al 22 ottobre ma in una location diversa il rinnovato cinema Masetti. È una gioia riprendere questa iniziativa che da tante soddisfazioni. Sono arrivati tanti entusiasti registi che vogliono partecipare al Festival di Fano. Oltre 2000 ne sono arrivati tantissimi. Per cui dobbiamo vederli, non dico tutti, ovviamente no, però una bella rappresentanza. Un festival che personalmente conosco fin dall'adolescenza, un festival che ha accompagnato sia me che tanti altri fanesi e che ha accolto tantissime persone anche da fuori. È un festival che ha dei numeri incredibili, 34 anni, 34 anni in cui si raccontano storie e 2000 film inviati. Questi sono numeri incredibili di cui siamo molto contenti. Stop dunque all'unica serata su prenotazione imposta dalla pandemia. Quest'anno si torna a fare sul serio, anche se in orari diversi dal solito. Gli orari, gli orari ovviamente sono un po' ballerini, ma cominceremo comunque martedì prossimo, martedì 18 con il lungometraggio vincitore alle 21.15. Poi abbiamo parecchi pomeriggi impegnati dalle 17 alle 19, tutti i cortometraggi in questo caso. Abbiamo una notte animata, una notte animata ovviamente di grande animazione nazionale e internazionale e questa notte animata comincerà proprio a tarda notte alle 23 per andare avanti oltre mezzanotte. Per concludere ovviamente il festival degnamente domenica mattina alle ore 6 del mattino, sottolineo alle ore 6 del mattino, con un film a sorpresa e lì chiaramente offriremo. Per chi si sveglierà di buon'ora anche una colazione offerta, offerta dalla direzione del festival, dalla direzione della sala, dalla direzione di una nota pasticceria fanese Matteo Cavazzoni, brioche in abbondanza e caffè bollente. Oltre la forma, la sostanza. Dopo l'esordio di martedì alle 21.15 con il lungometraggio Le voci sole con protagonista Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, prenderà dunque il via la rassegna pomeridiana di cortometraggi. Tanti temi trattati con una finestra animata e particolarmente esplicita sulla sessualità femminile. Per il resto tanto tanto impegno con i fari sempre puntati sulla più stringente attualità. Il tutto, come sempre, a ingresso gratuito. I temi sono quelli ovviamente della paura, della guerra, della malattia, insomma, del disagio personale. Sono temi ovviamente che non potevano sfuggire a registi oculati come sono, giovani, giovanissimi registi, comunque che si prendono carico anche di una realtà ovviamente che non funziona più come dovrebbe, insomma, no? Ecco. Ma poi ci sono temi, la povertà, ripeto, la povertà, il desiderio di riuscire, no? A sopravvivere, ad andare oltre, no? Questi temi negativi, insomma, ecco. Quindi, ecco, ma ci sono anche temi, no? Gradevoli, piacevoli, tipo l'animazione è tutta, no? Una basata su temi scanzonati, su temi ovviamente di grande qualità anche piacevole, ovvio. Metà delle pellicole pervenute sono italiane. Il resto arriva da 96 paesi stranieri, tra cui la Russia, per la quale spicca un corto diretto da una regista siberiana che a causa della guerra non ha potuto inviare la versione finale in alta qualità. Il patron Pucci, però, l'ha così amato che ce lo mostrerà ugualmente, anche se in bassa definizione. Tante poi le produzioni marchigiane, tutte provenienti dalla provincia di Pesaro Urbino. Simone Massi su tutti, ovviamente, no? Sappiamo, Simone Massi ha vinto tante volte il Festival di Fana, che quest'anno ci ha fatto un bellissimo regalo, dandoci gli ultimi due prodotti, due cortometraggi animati, insomma, no? Simone Massi di Pergola. Poi, il miglior film di autore marchigiano, eh? Matteo Damiani è di Urbino, praticamente. Poi c'è un fanese, no? Facchini, il regista Facchini, fanese che gira all'estero, un grande documentarista, come grande, no? Documentarista è Filippo Biagianti di Urbino, lo stesso, che ha generato un ottimo documentario in Terra Sarda. E nel weekend che ci siamo lasciati alle spalle ricorreva il centenario della nascita di Don Luigi Giussani. Diverse iniziative nel territorio peserese vogliono ricordare l'opera del religioso, a cominciare dalla mostra Tu sei un valore, le donne di Rose, che sarà inaugurata domani nella chiesa della Maddalena. In occasione delle celebrazioni del centenario della nascita di Don Luigi Giussani, il Centro di Solidarietà Il Faro, in collaborazione con il Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere, porterà a conoscenza della città di Pesero le vicende di dramma e di coraggio di alcune donne ugandesi legate al percorso dello stesso Don Giussani. Una storia che diventa una mostra dal titolo Tu sei un valore, le donne di Rose, mostra che sarà ospitata negli spazi della chiesa della Maddalena da martedì 18 a domenica 23 ottobre. Una mostra che porteremo in occasione del centenario della nascita di Don Luigi Giussani, perché l'incontro di questa donna, Rose, le donne di Rose, il sottotitolo di questa mostra, questa donna ha incontrato Don Giussani che le ha cambiato il cuore, ha capito il suo valore e da lì poi lei tornando in Uganda ha incontrato queste donne malate di AIDS che sono state rapite dai guerriglieri e che poi rinascono perché ricapiscono il valore che hanno. Quindi grazie a questo cuore cambiato di Rose cambia anche il cuore di tutte queste donne, cambia un popolo, sono tantissime, sono rinate. È la storia di una rinascita incredibile. Nella mostra ci saranno sia pannelli sia video, quindi è molto bella perché ci sono le immagini di queste donne e ci saranno anche dei video perché poi c'è la storia bella perché queste donne che rinascono chiedono poi di costruire anche una scuola invece di costruire un ospedale per loro che sono malate e questa è una grande novità che strabiglia la stessa Rose perché dice lei è una infermiera la Rose e quindi già questa cosa strabiglia perché loro dice no, noi vogliamo che i nostri figli siano guardati come siamo guardati noi e quindi vogliamo una scuola e loro dicono ma io non ho i soldi e allora loro dice ci pensiamo noi, vediamo e loro spaccano sassi e quindi fanno le collane, una collana questa è una delle loro collane, ne fanno migliaia e migliaia e vendendole un po' in tutto il mondo attraverso AVSI, questa associazione dei volontari di servizio internazionale riescono a raccogliere fondi per costruire la scuola. Adesso c'è una scuola bellissima, sono due scuole sia una primaria che una superiore. Ci sarà la presentazione mercoledì 19 alle 18.30 a Palazzo Montagnataldi dove noi in videocollegamento potremo conoscere la Rose, questa donna che ha incontrato queste queste donne africane e anche lei è una di Campala e quindi potremo sentire dalla sua viva voce il cambiamento, quello che è successo a lei, quello che è successo alle sue donne. E concludiamo con lo sport. In Piemonte è arrivata la prima sconfitta stagionale per la VL, a Remini è invece arrivato un tonfo clamoroso e umiliante per la Vispesero. Andiamo a vedere quanto accaduto nelle weekend di appuntamenti sportivi in questo nostro servizio. E' arrivata la prima sconfitta per la Carpegna Prosciutto-Pesero. Il primo KO da digerire viene servito in Piemonte dove i Biancorossi perdono 81 a 73 contro la Bertram Tortona. La VL sbaglia completamente l'approccio e incappa in un primo tempo chiuso a meno 18. All'intervallo arriva la scossa con una rimonta straordinaria che porta fino al 71 pari, dopodiché Tortona riprende inesorabilmente largo. Per Repesia questa volta sono mancate tante cose che diventano motivo di riflessione. Da nostra parte, da primo giorno sto parlando una cosa per provare là con pieno orgoglio, che ha detto tutto che poteva fare sul campo. Come potevamo perdere contro Venezia, abbiamo vinto meritando perché meritavamo vincerla per approccio e energia e concentrazione e tutto quanto che abbiamo dato in quella partita. Oggi siamo tornati, ma esaurienti da punto di vista energia e onestamente non meritavamo vincerla. Aspettavo una partita così perché tutta la settimana si sparlava solo vittoria contro Venezia. Purtroppo non sono riuscito con tutta la mia esperienza metterli sui binari per essere concentrati contro un avversario straforte come Tortona. Amareggiati tifosi della VL, umiliati quelli della Vispesero che nel sentito derby di Rimini crollano con un mortificante 5-0 senza scusanti. Una bocciatura su tutta la linea che lascia tanti interrogativi tecnico-tattici, strutturali e motivazionali con una partita morte e sepolta dopo appena 25 minuti in cui Rimini segna quattro volte per poi calare la manita nel cuore della ripresa. Umore Vissino che è all'esatto contrario di quello che vive il Fano che balza in vetta la Serie D in compagnia di Avezzano, Pineto e Vasto Girardi. Leadership guadagnata dopo aver espugnato Vasto 1-0 con rete di Tomassini. Nel calcio a 5 trasferta Amara per l'Ital Service che a settimo torinese cade 3-2 contro la L84. Seconda partita casalinga e seconda vittoria invece per la Fiorini-Pesero-Regbi che gioisce ancora al Toti-Patrignani prendendosi 5 punti in classifica grazie al 32-6 sul Villa Panfili. Si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Prima di salutarci vi ricordiamo alcuni appuntamenti come ogni lunedì dopo il Tg alle 20.10 ci sono le pillole dallo spazio salute San Decentio. Un appuntamento fisso del lunedì che potete rivedere anche nelle tante repliche previste come vedete in grafica dal martedì alla domenica. E poi la nostra prima serata è dedicata allo speciale sulla mostra Valore Artigiano e sul convegno Valore e Mestieri che si sono tenuti la scorsa settimana a Palazzo Ducale di Urbino. Palazzo Ducale che è stata la cornice di eccellenza di questa esposizione organizzata dalla Confartigianato Imprese Ancona e Pesaro Urbino. E poi questa sera un'altra esclusiva di Rossini TV, quella con le partite indifferite della Pesaro Rugby. Nel servizio dello sport poco fa vi abbiamo raccontato anche del risultato dei Kiwi giallorossi che incontravano la Villa Panfili Rugby. Per chi si fosse perso il servizio non vi spoileriamo nulla, andate a vedere come è andata questa sera alle 22.00. E poi l'appuntamento fisso con l'informazione mattutina di Rossini TV, quella di Buongiorno Rossini, la nostra segna stampa dei quotidiani locali che come sempre vi tiene compagnie dal lunedì al sabato, sempre rigorosamente in diretta dalle 7.20. Rassegna che domattina sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi. E anche questa sera vi lasciamo con un nuovo trailer di uno degli otto spettacoli in concorso al 75.00 Festival d'arte drammatica GAD che parte proprio questa sera. Rossini TV vi sta proponendo ogni sera uno dei trailer di questi spettacoli. Il preferito da voi telespettatori può essere votato sulla pagina Facebook Amici della Prosa GAD e il più votato sarà premiato con il premio Rossini TV che sarà assegnato il 30 ottobre nella cerimonia conclusiva di questa edizione del GAD. Dunque vi lascio al trailer e poi alle previsioni del tempo e vi auguro una buona serata in compagnia dei programmi di Rossini TV. Ma perché un uovo fresco, scusa? Per darti una nuova immagine dei casi e dei concetti. Se non sei pronto a chermirlo, te ne lascerai cogliere o lo lascerai cadere. Nell'un caso o nell'altro ti si spocquererà davanti o addosso. Se sei pronto, lo prendi, lo fori e te lo vedi. che ti resta? I mani, il buscio vuoto e questo è il concetto. Lo infilzi nel premio del tuo spillo e ti diverti a farlo girare. O te lo giochi con una palla di gomma da una mano all'altra. la, 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 la. E poi, paff! Lo sottiacci tra le mani e lo butti via.